Tre lauree e un master, missioni all'estero, Iraq e Kosovo, incarichi di prestigio negli Stati Uniti, in territori difficili come la Calabria. 45 anni, originario di Roma ma dalla lunga e consolidata esperienza, il colonnello Luigi Bramati è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Avellino, subentra Massimo Cagnazzo che dopo quasi tre anni ha lasciato l'Irpinia per assumere il loro ruolo di comandante della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro di Roma. La provincia di Avellino è meravigliosa e ricca di storia, dice Bramati, è un territorio vasto e vario anche sotto il profilo criminale, tra le priorità alla lotta alla malavita organizzata ma anche ai reati predatori, quelli che più preoccupano i cittadini. Questa è una bellissima provincia e posso dire nei primi tre giorni di servizio non posso che concordare. Come dicevo prima, la mia azione sarà volta sempre e soprattutto a preservarla, a contribuire a preservarla come una bellissima provincia. Viviamo in un periodo in cui anche questa pandemia, come dicevo prima, rappresenta un motivo di incertezza, di insicurezza per il cittadino. Noi ci proponiamo di essere vicini al cittadino per garantirgli sicurezza in maniera pratica e oggettiva, ma anche per infondere un senso di sicurezza e di tranquillità di cui in questo momento c'è bisogno. Posso dirvi che l'approccio che l'arma dei carabinieri ha avuto nei vari territori e questo facilitato anche dalla struttura dell'arma dei carabinieri è necessariamente calibrato rispetto alle realtà locali. Sono sette compagnie che dipendono dal comando provinciale dei carabinieri di Avellino, c'è stata un'ulteriore compagnia che è stata creata molto recentemente, come sapete, e in base anche all'evoluzione del fenomeno criminale che l'arma decide, la riarticolazione della propria struttura. Questo è avvenuto e non è escluso che possa avvenire ulteriormente, è proprio sulla base dello studio dei fenomeni e delle caratteristiche. Adesso dirvi già qual è la soluzione della ricetta per la Valle Caudina piuttosto che l'Arterpina è difficile, però vi posso assicurare che il fenomeno criminale e la sicurezza in generale viene calibrata in base alle caratteristiche singole specifiche del territorio. Grazie a tutti.